Molto spesso sentiamo dire che la motivazione è determinante per raggiungere buoni risultati, ma ad oggi gli strumenti per misurarla non erano così precisi. Grazie ad una misurazione di valori neurofisiologici, noi siamo in grado di individuare la motivazione interna intrinseca dell'atleta. Abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti gli sportivi e non i test che gli atleti della Stella Azzurra fanno, ossia parliamo di Sport Potential Assessment. Che cos'è? Una serie di test che gli atleti compilano con i quali è possibile andare a creare un programma di intervento specifico in grado di incrementare la performance dell'atleta. L'atleta fa una serie di test sia di natura psicologica ma anche di natura neurofisiologica che ci consentono di ottenere un risultato per ogni atleta. In base a questi risultati possiamo poi andare a creare delle sessioni di allenamento che sono in grado di intervenire sia sui punti di debolezza dove è necessario ottenere un incremento della qualità delle stesse ma anche incrementare a maggior ragione i punti di forza. Quindi non c'è un modello standard per tutti ma un modello che viene costruito per ogni dell'atleta.